Abbiamo deciso come taglio delle due sedi di partecipare a questo rincorso di un incontro di una storia per due minuti. Il primo è che è un tema che è al centro della questione sociale e il rapporto con l'altro. È oggi che si tenta di creare paura e disagio nei confronti dell'altro come sconosciuto, andare incontro a tutto quello che è altro è sicuramente un'azione fondamentale. L'altra cosa che è meno sociale ma più attinente al teatro è che il nostro teatro nasce come teatro di narrazione e quindi partecipare ad un concorso del genere che stimola le persone a intervistare l'altro, a raccontare storie è sicuramente una cosa che ci interessa moltissimo.